Case popolari in arrivo 6 milioni dal PNRR per le ristrutturazioni. Oltre 150 agli alloggi interessati. Nasce l'osservatorio per monitorare il distretto, segnali di ripresa ma in un anno ha chiuso il 4% delle imprese. Al Politeama è tempo di musica, vecchioni rene grandi e l'omaggio a tre grandi artisti. Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con il Tg del giorno di TV Prato. A voi tutti ben trovati e apriamo le nostre notizie di oggi parlando di alloggi popolari. Sono oltre 150 quelli che verranno ristrutturati e riqualificati con i fondi in arrivo in provincia di Prato grazie al PNRR. Annunciato anche un max intervento di efficientamento energetico sull'immobile popolare di Via Turchia. In arrivo 6 milioni e 200 mila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nella provincia di Prato. EPP ha stilato un elenco di 154 alloggi da riqualificare. La priorità è stata data, secondo le indicazioni del PNRR, a quelli che necessitano di interventi di efficientamento energetico e a quelli situati in zone sismiche. Noi andremo in gran parte ad efficientare i nostri edifici con la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie. Diminuiremo anche tutte le condizioni di rischio dovute per esempio alla presenza delle bombole del gas negli appartamenti. Rifaremo le linee di distribuzione del gas, le centrali termiche e metteremo anche in sicurezza da un punto di vista sismico. In questo elenco ci sono alloggi nel comune di Vernio, in via Piano San Giovanni e in via La Lama, nel comune di Vaiano e in via Togliatti, nel comune di Montemurlo e in via Ancona, nel comune di Prato tra via del Girasole e via del Malfante e altri alloggi tra via Rubieri e via Zipoli. Gli interventi previsti sono tutti in fase di progettazione preliminare. I cantieri si apriranno entro la fine del 2022 e si dovranno chiudere entro il 2026. All'inizio del 2022 uscirà la nuova graduatoria per l'assegnazione delle case popolari nel comune di Prato. Il bando si era chiuso lo scorso 23 febbraio. I cittadini pratesi in realtà hanno presentato meno domande di circa quattro anni fa, perché siamo intorno a 1650 contro le 1900 che erano state presentate quattro anni fa, però insomma siamo in grado poi di poter rispondere gradualmente, questo è chiaro, gradualmente alle necessità che ci sono in città. In occasione della presentazione delle ristrutturazioni, la Presidente di EPP ha annunciato anche un maxi intervento di efficientamento energetico da 4 milioni sull'immobile di via Turchia, al centro del piano di riforestazione Urban Jungle. Pensiamo di realizzare il più grosso intervento di efficientamento energetico nella città di Prato. Non solo di efficientamento energetico, ma anche di manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti, come la sostituzione degli ascensori, che sono estremamente vecchi, più una serie di sistemazioni esterne. E passiamo adesso ai aggiornamenti sulla pandemia. Salgono a 30 nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Prato. Un aumento contenuto rispetto al dato di ieri. Lo stesso non si può dire dei nuovi contagi a livello regionale, che tornano sopra quota mille. Non succedeva dallo scorso aprile. Per l'esattezza sono 1036, con un'età media di 37 anni. In aumento anche il tasso di positività, che sfiora il 3%. Sono 7 invece nuovi decessi in Toscana, nessuno dei quali a Prato e provincia. Le persone ricoverate nelle aree Covid degli ospedali toscani salgono a 371, 12 in più rispetto a ieri, di cui 48 in terapia intensiva, una in più di ieri. E parliamo adesso di imprese. Dall'unione delle associazioni di categoria nasce l'osservatorio per monitorare la situazione del distritto. Ogni tre mesi verrà redatto un report per comprendere l'andamento della produzione e calibrare eventuali interventi di sostegno. Vediamo cosa è emerso dalla prima indagine. Il 2021 si è chiuso con una contrazione della produzione industriale superiore al 20% e nel terzo trimestre i livelli produttivi nel tessile sono inferiori del 10% rispetto al 2019. L'assottigliamento della filiera tersista, lo scarso ricambio generazionale delle figure imprenditoriali e l'invecchiamento della forza lavoro sono i problemi con i quali deve fare conti il distretto. Sono questi segnali che emergono dal primo report dell'osservatorio economico, il progetto messo in piedi da Confindustria Toscana Nord, con Fartigianato e CNA, con il contributo scientifico dell'IRPET, la collaborazione della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, il Centro per l'Impiego e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Il report vuole analizzare lo stato di salute del distretto e ogni trimestre produrrà dati per verificare la situazione e trovare eventuali soluzioni. Andando nello specifico, il report sottolinea che diminuisce dello 0,4% il numero di imprese attive a Prato al 30 settembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo negativo più rilevante deriva dal settore tessile che vede diminuire negli ultimi 12 mesi il numero di imprese attive di una percentuale pari al 3,7%. Crescono invece le confezioni. Riguardo alla produzione industriale, l'abbigliamento è tornato sui valori pre-pandemia, ben diversa la situazione per l'industria tessile che rimane ad oggi lontana dai livelli pre-crisi. I dati sul fatturato delle imprese artigiane confermano una certa sofferenza del comparto tessile, anche se a partire dal secondo trimestre 2021 in alcuni casi si registra un recupero anche rispetto ai valori pre-crisi. I dati sugli artigiani suggeriscono evidenti problemi a recuperare i valori pre-crisi anche per il settore delle confezioni. Anche sui mercati esteri la gran parte dei prodotti della moda rimane molto lontana dai livelli registrati nel 2019, l'unica eccezione costituita da quelli di abbigliamento con l'esclusione della maglieria. Bene invece le altre produzioni dell'industria pratese, prodotti dell'industria metalmeccanica su tutti. Nel corso dei primi nove mesi del 2021 timidi segnali di ripresa sono emersi sul fronte del mercato del lavoro in cui il saldo tra ovviamente e cessazione è tornato a crescere. Il cambio di tendenze è dovuto soprattutto al tempo determinato. I nuovi ingressi si sono concentrati in particolare sulle fasce più giovani. Sul fronte degli interventi strategici, le imprese pratesi si sono orientate specialmente su digitalizzazione e ricerca e sviluppo. Ci sono dei segnali in chiaro-scuro. Alcune indicazioni ci sono di conforto perché c'è un'evidente ripresa del tessuto produttivo. La produzione industriale è avviata in un percorso di recupero rispetto ai dati pre-pandemici. L'elemento diciamo più preoccupante è il fatto che siamo ancora ben distanti da quell'obiettivo. Quindi c'è ancora un pezzo di strada da percorrere che sarà percorso se c'è la volontà di tutti di collaborare perché ovviamente il tessuto produttivo è un intreccio di situazioni, di imprese che interagiscono tra di loro e che hanno bisogno di essere vitali nelle varie dimensioni, nei vari elementi, nei vari corpi per far sì che si generi quella catena di produzione che poi genera valore all'interno del territorio. E restiamo in tema. Consegnate a 10 lavoratori pratesi le stelle del merito al lavoro. Guardate. Con il vostro percorso lavorativo e con la passione che avete messo nello svolgimento delle vostre attività avete reso un servizio alla collettività sia dal punto di vista economico che sociale. Così il prefetto Adriana Cogode in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze delle stelle al merito del lavoro conferite dal Presidente della Repubblica per gli anni 2020-21 che si è tenuta ieri pomeriggio in prefettura. A ricevere le onorificenze sono stati 10 lavoratori delle imprese pubbliche e private residenti sul territorio della provincia di Prato che nel corso della loro carriera si sono distinti per particolari meriti morali professionali di perizia e laboriosità. Tra gli insegniti anche l'ex Presidente di CAP Giuseppe Goli. A consegnare le onorificenze il prefetto Adriana Cogode i sindaci di Prato Matteo Biffoni di Poggio Accaiano Francesco Puggelli di Vaiano Primo Bosi primi cittadini dei comuni di residenza degli insegniti. Presente anche il console provinciale dei maestri del lavoro Mauro Gori. Si tratta delle stelle al merito del lavoro che sono delle onorificenze che vengono rilasciate a quegli imprenditori o comunque a quelle persone che si sono distinte nel mondo del lavoro per capacità, per innovazione per spirito di servizio che ovviamente la cui attività ha avuto una ricaduta poi benefica sul territorio. E siamo adesso allo spettacolo. Roberto Vecchioni Irene Grandi Elio e gli omaggi a grandi artisti della musica italiana al Politeama e Tempo di Musica. Non solo spettacoli il Teatro Politeama punta anche sulla musica contemporanea ed autore con una rassegna di concerti da gennaio a maggio 2022 organizzata in collaborazione con Fonderia Cult Art che vede tra i protagonisti i nomi del calibro di Roberto Vecchioni e Irene Grandi. Dopo la prima edizione saltata a causa della pandemia e soltanto in parte recuperata l'estate scorsa il Teatro di Via Garibaldi presenta un nuovo cartellone incentrato sulla musica di qualità. Si parte il 28 gennaio con Nada che presenterà il suo nuovo album. Lo stesso farà Eugenio Bennato che ha composto il suo nuovo lavoro assieme ai musicisti della Taranta Power. Sarà la volta poi di Irene Grandi che proporrà il suo repertorio in chiave rock blues e di Elio con una interpretazione di Enzo Iannacci. Ad aprile il concerto di Roberto Vecchioni con il suo ultimo album L'Infinito. Il programma presenta poi tre omaggi ad importanti artisti che hanno segnato la storia della musica italiana a cominciare dal tributo di Alice all'opera di Franco Battiato. La cantante che si è già esibita in città la scorsa estate sulle note delle grandi artiste siciliano sarà accompagnata oltre che dal maestro Carlo Guaitoli al pianoforte anche dall'orchestra ai filarmonici italiani. Giovanna Nocetti interpreterà e racconterà invece Milva infine il tributo a Ennio Muricone ad opera dell'ensemble Sinfoni Orchestra che proporrà i brani più celebri del grande compositore italiano. E adesso lo sport con il calcio. Il Prato rinforza il reparto quote. La società Biancazzura ha prelevato dalla San Giovannese attraverso la Pistoiese proprietaria del cartellino il centrocampista classe 2003 Lorenzo Boganini. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile della Sestese per poi passare nei settori giovanili di Empoli, Prato e Pistoiese. Nella prima parte della stagione con la San Giovannese ha totalizzato 11 presenze e segnato due reti. Oggi Boganini sosterrà il primo allenamento con la squadra Biancazzurra. E adesso è il momento delle previsioni meteo come sempre a cura del consorzio Lama. Salve un caro saluto ben ritrovati con il consueto appuntamento meteo offerto dal consorzio Lama. Andiamo a vedere e a commentare insieme le immagini dal satellite. Vedete come un campo di alta pressione si stia irrobustendo sull'Europa occidentale e sulle isole britanniche. Nei prossimi giorni raggiungerà anche la Scandinavia. Rappresenterà questo campo di alta pressione un blocco alle perturbazioni atlantiche e pertanto ci attendiamo sulla nostra regione fino a Natale e probabilmente anche fino a Capodanno un clima stabile con il continuo flusso invece di aria più fredda dai quadranti nord orientali quindi un Natale stabile ma con temperature invernali è quello che ci attende. Ma andiamo con l'ordine andiamo a vedere quello che ci attende intanto per il pomeriggio di oggi ancora stabilità ma con qualche nube in più rispetto ai giorni scorsi sono velature in transito e locali agdenziamenti sulle zone orientali che tuttavia non daranno luogo a precipitazioni di rilievo venti ancora al nord orientali in locale rinforzo i mari sono poco mossi sotto costa mossi solo a largo le temperature stazionare con valori gradevoli solo sulla costa e in collina dove raggiungeremo punte fino a 12-14 gradi sulle pianure sulle vallate interne valori inferiori generalmente a 10 gradi anche per quanto riguarda le massime lo sguardo da quello che ci attende per la giornata di domani una giornata con cielo inizialmente sempre poco nuvoloso qualche locale addensamento solo sui settori appenninici temperature in lieve aumento localmente ma nelle pianure e nelle vallate interne potremo ancora avere delle locali gelate nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi sull'appennino orientale sul senese e sull'aretino non si è escluse la possibile occorrenza di qualche debole isolata precipitazione ma fenomeni veramente di scarso rilievo prevalenza di sole sul nord ovest e su buon parte delle zone costiere con le temperature massime attese in lieve calo valori compresi tra gli 8 e i 12 13 gradi con questo è tutto vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti grazie a Lama per l'aggiornamento sul meteo anche le nostre notizie terminano qui per il momento continuate a seguirci alle 17 in diretta dall'Uomo di Prato ci sarà la novena di Natale e a seguire la celebrazione della Santa Messa per quanto riguarda l'informazione torna questa sera alle 20 e 30 con il Tg della Sera e nel frattempo tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito web tvprato.it grazie per averci seguito e a voi tutti un buon pomeriggio grazie a tutti